Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. Apriamo con la cronaca una truffa all'erario da 27 milioni di euro, circa 180 finanzieri impegnati tra Campania e Puglia. I carabinieri di Napoli hanno sgominato una banda dedita allo spaccio di stupefacenti, utilizzavano come piazza un'enoteca. Passiamo ora ad occuparci dell'emergenza sanitaria, sprint alla campagna vaccinale. Da lunedì potranno prenotarsi sulla piattaforma anche gli over 40. Boom di guarigioni nel Vesuviano, ieri oltre 100 nella città di Torre del Greco. In chiusura una buona notizia per l'utenza marittima. Si sblocca la situazione per quanto riguarda i corsi di nuoto e voga. Questo e molto altro. Guardiamo i servizi. Sono 180 i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli che stanno eseguendo tra Campania, Puglia e numerose altre regioni del territorio nazionale un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica Partenopea nei confronti di sei soggetti, tutti agli arresti domiciliari, gravemente indiziati di far parte di un'associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale. Il danno provocato all'erario ammonta oltre 27 milioni di euro. Molto efficace la sinergia con l'Agenzia delle Entrate di Napoli, dalla cui segnalazione erano emersi indizi riconducibili ad un complesso meccanismo di frode fiscale. I successivi provvedimenti delegati dalla sezione criminalità economica della Procura di Napoli e gli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli hanno condotto alla ricostruzione di un sodalizio criminale composto da professionisti, affaristi, mediatori e prestanome, artefici del sofisticato sistema fraudolento di indelebile compensazione. La compensazione tributaria consiste nella possibilità riconosciuta al contribuente di utilizzare i propri crediti nei confronti dell'erario per il pagamento di eventuali debiti nei confronti dello stesso. Proprio sfruttando la possibilità offerta dalle compensazioni, il sodalizio si sarebbe reso protagonista di un ampio fenomeno di evasione che prevedeva in primis la creazione di falsi crediti IVA in campo a società cartiere, amministrate da compiacenti prestanome. Quei crediti venivano riportati nelle dichiarazioni IVA e muniti del visto di conformità da parte di consulenti fiscali compiacenti. In molti casi sono stati anche ceduti per essere utilizzati in compensazione anche da parte di altre società fuori dall'organizzazione. Tale prassi, ora vietata dalla legge, veniva realizzata mediante il ricorso all'istituto dell'accollo tributario della cessazione del credito fiscale da parte di società che esponevano nelle loro dichiarazioni crediti IVA a beneficio di contribuenti terzi che li utilizzavano in compensazione. L'associazione per delinquere era capeggiata da un commercialista e un imprenditore napoletano, entrambi gravati da plurimi precedenti per reati tributari, i più recenti nel settore delle frodi della commercializzazione di prodotti petroliferi, che si avvalevano della determinante collaborazione di quattro fiscalisti, anch'essi colpiti dalla misura degli arresti domiciliari. La vendita dei crediti inesistenti ad altri contribuenti avveniva grazie ad una ramificata rete di affaristi e procacciatori che proponeva l'acquisto degli stessi in compensazione tramite il pagamento di una somma variabile a seconda dell'importo dei crediti fino al 70% del valore nominale. L'ilecito fenomeno avrebbe interessato 27 società cartiere, attestanti crediti IVA inesistenti e una fitta rete di affaristi, consulenti fiscali e intermediari riconducibili al sodalizio indagato, che avrebbe avuto l'incarico di procacciare le società e i contribuenti risultati beneficiari delle indebite e compensazioni nei periodi di imposta 2016, 17 e 18 per oltre 27 milioni di euro. Nel complesso l'attività si è conclusa con l'esecuzione di sei misure degli arresti domiciliari, il sequestro preventivo dei beni del valore di 27 milioni di euro a carico di 62 tra società e contribuenti utilizzatori dei crediti IVA inesistenti e la denuncia per il reato di indebite e compensazioni di 93 soggetti. I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare di cui quattro in carcere e uno agli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti gravemente indiziati di associazione finalizzata al traffico illecito, spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. L'indagine condotta dai militari della Compagnia di Marano di Napoli ha permesso di ricostruire un'organizzazione criminale dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti operanti a Marano di Napoli e Calvizzano. Il business della droga veniva realizzato seguendo prevalentemente due canali, il primo fondato su una vendita statica dello stupefacente, il secondo invece basato su un canale dinamico. La vendita statica avveniva all'interno di due piazze di spaccio esistenti a Marano di Napoli di fronte alla chiesa di San Ludovico Tanjou e in un'enoteca gestita da uno degli arrestati, luoghi di ritrovo frequentati per lo più da giovani. Lo spaccio avveniva anche grazie all'aiuto di alcuni fiancheggiatori che avevano il compito di avvisare i pusheri in caso di controlli da parte delle forze di polizia. La vendita dinamica invece avveniva mediante appuntamenti concordati a mezzo telefonico tra spacciatore e acquirente, rendendo difficile e imprevedibile l'individuazione del luogo dell'incontro da parte delle forze dell'ordine. Da lunedì le regioni italiane potranno aprire le vaccinazioni degli over 40. Il commissario per l'emergenza, Francesco Figliuolo, lancia lo sprint della campagna in vista dell'estate, confortato dal calo della curva epidemiologica. Oggi è ancora sotto i 10.000 nuovi casi per il quarto giorno consecutivo e dall'impennata delle somministrazioni, che oggi hanno superato quota 25 milioni. Per quanto riguarda i vaccini provenienti da nuove aziende, che potrebbero venire somministrate a partire da giugno, il Premier Mario Draghi, durante il question time alla Camera, ha invitato ad accelerare sullo sblocco dell'export, prima di arrivare ad una liberalizzazione dei brevetti. Dal Senato invece è arrivata l'approvazione ad un emendamento del decreto legge Covid, che prevede lo scudo penale per medici e infermieri durante il periodo di emergenza. Un segnale importante, il commento del Ministro della Salute Roberto Speranza, a chi ha lavorato in primissima linea in una fase così dura ed ha aiutato il Paese con il massimo dello sforzo e dell'impegno. Sulla questione del richiamo Pfizer, infine, l'EMA ha confermato ufficialmente l'efficacia della seconda dose a 42 giorni, come deciso da tempo dal Comitato Tecnico Scientifico e ribadito questa mattina dallo stesso coordinatore Franco Locatelli. L'EMA sottolinea che non è una deviazione rispetto alla raccomandazione. Informazioni, tra l'altro, presenti anche nel bugiardino del vaccino. Da lunedì dunque si aprirà ufficialmente una nuova fase della campagna vaccinale, alla quale potranno aderire anche i nati fino al 1981, vale a dire gli over 40. In una lettera inviata alle regioni, Figliuolo raccomanda comunque ai governatori l'assoluta necessità di continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili, classi di età over 60, cittadini che presentano comorbità, fino a garantirne la massima copertura. Per questo l'inizio delle somministrazioni per i più giovani non partiranno contemporaneamente in tutta Italia, ma solo nelle regioni che sono già pronte e che hanno già completato la vaccinazione di gran parte delle categorie citate dal commissario. Nel frattempo, con l'avvicinarsi delle vacanze, il governo sta pensando alla possibilità di consentire le vaccinazioni anche ai turisti in visita in regioni diverse da quella in residenza. Le regioni hanno utilizzato il 91% delle dosi a loro disposizione, con Puglia, Lombardia e Sardegna tra le più virtuose. E proprio oggi è cominciata la distribuzione di altre 2,1 milioni di dosi, alle quali entro il fine settimana si aggiungeranno le restanti dei previsti 3 milioni. Nel Lazio si punta ad arrivare all'immunità di Grecia già ad agosto. In Campania, invece, con l'arrivo di altre 215 mila dosi, è ripartita la campagna che aveva subito un piccolo rallentamento. Nuovo boom di guariti a Torre del Greco. Ieri si sono registrate 101 guarigioni e nessun decesso, numeri che fanno ben sperare dopo i decessi degli scorsi giorni. Tuttavia, sono 8 i nuovi positivi nel comune Corallino, attualmente in isolamento domiciliare. Segnalati anche oltre loro 67 tamponi effettuati, i risultati nei prossimi giorni. Si abbassa ancora il bilancio dei contagiati con 177 attualmente positivi, di cui 15 ospedalizzati. Sono 8 le guarigioni invece a Torre Annunziata e 2 i nuovi positivi su 117 tamponi effettuati, con l'indice di positività che si attesta all'1,71%. In calo il numero di cittadini positivi, attualmente 74. Per quanto riguarda i dati delle vaccinazioni, il Comune Oplontino registra 13.020 persone vaccinate, di cui 3.758 con prima e seconda dose. La percentuale calcolata sul numero delle prime dosi in rapporto al numero degli abitanti è al 22%. Prosegue la campagna di vaccinazione anche a Portici, dove si segnala una percentuale del 36,84 vaccinati con prima dose. Nel dettaglio sono 23.609 i cittadini con almeno una dose ricevuta, 6.485 con prima e seconda dose. Negli studi di TV City, il comandante della Capitaneria di Porto di Torre del Greco, Vittorio Giovannone, finalmente una buona notizia per l'utenza marittima. Si sblocca la situazione per quanto riguarda i corsi di nuoto e voga. Si, posso confermare che è stato appena pubblicato sul nostro sito istituzionale nella sessione dedicata agli avvisi e agli esami il relativo bando che prevede al momento una sessione il 24 maggio, quindi in anticipo rispetto a quelle che sono le normali date di svolgimento e che si terrà a mare naturalmente sempre con le condizioni meteomarine favorevoli e quattro giornate espressamente dedicate qui nel compartimento marittimo di Torre del Greco nel mese di giugno. A ciò si aggiunge anche poi l'iniziativa della Capitaneria di Porto di Napoli, della Direzione Marittima di Napoli, che terrà ulteriori sessioni nel mese di giugno qui nel territorio del compartimento marittimo di Torre del Greco proprio per cercare di riuscire a recuperare tutti i marittimi che avevano interesse a fare l'esame ma che purtroppo a causa delle chiusure imposte dalla pandemia non è stato possibile soddisfare. Questi corsi sono propedeutici per il successivo imbarco? Sono requisiti richiesti dalle norme vigenti, dal codice della navigazione in primis per poter completare l'iter relativo all'iscrizione nelle matricole dell'agente di mare, quindi sì sono elementi essenziali per poter intraprendere la carriera di marittimo. Qui a Torre del Greco quanti sono i marittimi che dovranno effettuare questi corsi? Adesso un numero preciso non li posso dare, posso soltanto dire che attraverso le sessioni che abbiamo programmato tra la fine di maggio e il mese di giugno, prevedendo un numero massimo di candidati nel rispetto delle normative Covid non superiore a 30, riusciamo a copire tra i 150 e i 200 candidati. E con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro Tg. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare un'email all'indirizzo redazione-tvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto, arrivederci a domani. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.